Il video più visto di quest'anno è stato la grande bufala del vinile, che continua a generare molte visualizzazioni e anche tanti commenti. Purtroppo anche a molti non mi piace. E ne parliamo adesso. La grande bufala del vinile. Faccio scorrere il video qua sotto. Cosa voglio dire veramente? L'impressione è che anche in questo caso molti si siano fermati soltanto al titolo. Perché i commenti più gettonati sono Viva il vinile! Ma vuoi mettere un vinile rispetto a chi suonano in computer? Ah ma cosa dici? Non è vero che la bufala del vinile non esiste? Non sto parlando di questo. Non sto parlando di quanto è bello il vinile. Non sto parlando di quanto è bello il suono del vinile. Siamo d'accordo? Anche a me piace molto acquistare vinili, ascoltare vinili. Quello di cui si parla in questo video e che continuo a sostenere a maggior ragione con i dati che abbiamo in possesso in questi mesi è che il mercato del vinile è molto ristretto. Anche se il trend continua ad essere positivo. Questo è il punto. Sono contento anch'io che la Sony abbia riaperto dopo oltre vent'anni la divisione nella manifattura dei vinili per stampare il proprio catalogo. È una bellissima notizia per tutti e nessuno vuole sostenere il contrario. Indubbiamente se la Sony ha fatto una scelta di questo tipo vuol dire che ha valutato bene il mercato e che c'era margine per poter ritornare a produrre i propri vinili. Il problema è che il mercato è ristretto. Soprattutto il mercato del nuovo, i cui numeri sono veramente veramente bassi. Alla Fnac a Parigi c'è un intero reparto di vinili, cosa che non era così 5-6 anni fa. Questa è una buona notizia. Il problema è che ad essere acquistati sono soprattutto i vecchi dischi del catalogo invece che gli album che escono insieme ai nuovi cd. Perché è difficile qualcuno si prenda un doppio LP che costa 30 euro. È molto più probabile che oggi si vada a comprare una ristampa di The Dark Side of the Moon o una versione particolare invece che l'album appena uscito. Ed è questo il punto su cui verteva il video precedente. Ed è questo cui insistere a parlare di grande bufala del vinile. È vero che il vinile è tornato di moda, però gli appassionati che comprano e ascoltano i vinili sono purtroppo ancora molto pochi. E difficilmente il vinile riesce a far breccia sulle nuove generazioni, salvo rarissimi casi. Purtroppo molte etichette discografie hanno dovuto rivedere la propria strategia perché anche prendendo nomi importanti e stampando il vinile hanno avuto delle vendite inferiori alle loro attese. Ci sono anche dei portali che adesso più conosciuto è dj.d che vende tanto, è molto seguito e esce roba veramente bella tutti i giorni. Ed è bene che le persone continuino ad acquistare i vinili ed anche a suonarli nei club o nei party. Speriamo che la cosa aumenti sempre di più. Abbiamo visto che a fine 2017 il vinile come mercato ha un segno più a differenza del cd che sta quasi scomparendo del tutto. Speriamo quindi che la cosa faccia breccia sempre di più. Che molte più persone si avvicinino al vinile, che si acquistino i giratischi, un bel impianto. La realtà attuale è che si tratta ancora di una nicchia di appassionati alcuni dei quali anche piuttosto rumorosi e tendono a farsi valere. Per l'ultima volta nessuno è contro il vinile. Non si parla dei dj che devono suonare il vinile al posto del computer. Stiamo parlando di mercato. I numeri del vinile ancora oggi sono decisamente piccoli, in aumento. E quindi potremo vedere degli sviluppi nei prossimi anni. Continua a seguire i video di essere dj oggi, sia su youtube che su facebook. Un bel like e alla prossima! Mi raccomando, se commenti questo video, cerca di vederlo fino al fondo così magari eviti di dire qualcosa che non ha niente a che vedere con quello di cui si parla.